Ciao, sono il Gatto Tagliato. Mi piaceva iniziare un video stupido. Parlando di cose serie, quest'oggi giocheremo a Internet Caffè Simulator. Come possiamo vedere dalle immagini, è esattamente quello che ci viene promesso. Non sto capendo cosa sto vedendo. Neanche ora sto capendo. Sembra un corriere in un brutto quartiere orientale. E un uomo dal modello un po' particolare. Il pawn shop... Come il pawn shop? Scusami. Ah, ah! Beh, giochiamo. Devo dire che me non è neanche male e l'audio è anche parecchio basso. E la musica mi fa venire voglia di ballare. Basta. Mi piace quando le impostazioni di un gioco sono limitate. Meno scelta per me. E andiamo. Ah, carina questa scelta. Posso decidere di iniziare il mio business con solamente i miei soldi. Oppure posso chiedere un prestito della banca che mi raddoppia il capitale iniziale. Però dovrò pagarli con pagamenti regolari. Cosa succede se non pago? Eh? Io ho paura che appena parte il gioco l'audio mi sfascia le orecchie. Ma vabbè. Questa è la tua hotel room. Puoi mangiare e dormire qui. E poi seguire i simboli sullo schermo per andare al lavoro. Allora, ho delle domande. Prima di tutto. Quale banca ci ha raddoppiato il capitale così a caso perché sì? Perché dormiamo in un... Il mouse. No, vabbè. Figa, sono un pro player. Devo girare tutta la scrivania. Immagino che sia il nostro internet caffè quello. E... E... La distanza in metri dice molto. Sento la mia pancia che è brontola. Ma non sento un cazzo. Quindi... Perca puttana. Ah, dovevo aumentare la sensibilità del mouse. E aumentiamo anche il volume. Cos'è sto... Cos'è sto rumore? Le opzioni. Però il suono ambientale non esiste. Porca troia. Troppo. Allora... Ma si può saltare in questo gioco? Beh, bellissimo. Per chi in una stanza d'hotel c'è la foto di un gatto? Bellissimo, per carità. Però... Ho capito. Ah, ma quella è la barra della fame. Ah, ok. Digital Radio Clock. Sono le 9.45 del mattino. Qui posso dormire, ma... Ha detto che potevo anche mangiare qui in hotel. Cos'è questa stanza? Ma c'è un tappeto. Ma che cazzo di hotel è? Ma no, non sarà un hotel. Sarà una delle stanze. Sì, guarda, c'è anche lo studio. Sarà una casa in affitto. Sì, ho capito che c'hai fame, ma non so come si mangia. Sarà dietro a una di queste porte? E... È chiusa. Ma come c'è una porta chiusa? E qui c'è il bar... Bellissimo. Tavoletta del Walter in Mogano. Vabbè, no. Sarà di qua che si mangia. Figa, ma che luogo pazzesco. L'idea proprio per certanto quel gatto. Soprattutto per aver messo una foto croppata veramente male. Sì, ho capito che c'hai fame. Ma che palle. C'ho delle mani anche. Ma mani mostruose. Refrigerator. Ok. Soup. La mangiata col barattolo e tutto, vedo. Una pizza. A posto. Stiamo da dio. Chiudi. Chi rifilla il frigorifero? Abbiamo la governante. Mi piace molto come hanno deciso di mettere via le pentole con una tendina. Ci si può anche inciuccare? No. Il vino non si beve anche perché abbiamo una bella collezione, ma dobbiamo andare al lavoro. Ciao Micho Mao. Fuori dalle palle. Ma cosa c'è dentro questa porta? Scusami. Niente, lo scopriremo magari più avanti. Sembra veramente una stanza d'hotel. Chiudo la porta che non entrino i ladri. 233. Segniamocelo. C'è anche un estintore. Water. Non credo siano riempiti d'acqua quei cose lì. Ma porca puttana. Alla faccia delle porte antincendio. Buonasera persone che camminano. Oh, c'è scritto veramente hotel lì. Mi dice anche quanto sono felice le persone. Fonzarelli qui è contento di vedere la bella lasagna, ma lei non è contenta perché ha visto Fonzarelli. Ciao Sheldon Cooper. Posso parlare con i passanti? No. Ma il dottor House? È legale questa cosa? Che short, signorina. Salve. Niente. Mi ignorano tutti. Catfee. Ma dai! Ma che bello! Entro. Ma è una merda. Allora, lasciamolo chiuso e puliamo. Si può? Trash. Sì. Eh. Trash. Come me ne occupo? Ah, con la scopa forse. Uh. Cazzo, ma è bellissimo. E via di spazzolone. Facciamo sparire tutto dal cartone del latte ai nidi di rondine, non lo so. E anche i cartoni della pizza, perché no? Il futuro del gaming. Un bel poster. Gamer, play and win. Questo rumore di pulizia sembra una sega a mano che taglia un tronco. Non inteso quella sega a mano, dai. Volgari. Scusa, che cazzo è? Una finestra? Un interruttore? Ok. Non è un po' strana sta finestra? Cosa c'è lì fuori? È riflesso? No? Non è riflesso, è un'altra stanza. Cosa è? La sala interrogatori? Che c'è? Perché? È off limits? Ma è casa mia, non posso... È vietato andare fino in fondo. Probabilmente perché non abbiamo ne ancora fatto un upgrade del luogo. Però fa schifo, lasciami il muro. Va bene. Sì, ma non buttarla per terra così la scopa. No, ma anche la cucina... Perché c'è una cucina? Comunque, neanche in cucina possiamo andare. Droppo la scopa. E c'è il poster. Prendiamo il poster e lo attaccherò al muro. Gamer, play and win. Tiè, buttalo. Bello, veramente bello. Mi piace che ci siano le inferiate. Abbiamo una vasta gamma di cose, tipo una radiosveglia. Il controllo della temperatura. Il condizionatore... Ma c'è... Dov'è? Che soffitto terribile. Non ce l'abbiamo il condizionatore. Come fa... L'ha buttato per terra, sì. Come faccio a controllare il meteo se non abbiamo il condizionatore? Sembra più una caserma, ma vabbè. Poi abbiamo una sales gun. Cos'è la sales gun? Quella per mettere i prezzi? No. Serve a vendere, immagino. Ok, tutta bella trasparente. E non buttare per terra tutto, però. Per favore. E invece butta tutto per terra. Lì c'è un coso della pizza, ma ancora? E una mazza da baseball. Beh, giustamente, se entra qualcuno di poco raccomandabile... Poggi sul tavolo. Beh, beh, ci stiamo avvicinando. Usa il computer. Anche meno aggressivo. Spazio per accenderlo. Eeeh, quanto vecchio! Non è un ottimo inizio per un internet caffè. Zamzor! Ah, posso anche chiamare degli addetti ai lavori. Fighissimo. Il mio store. Cosa vuol dire il mio store? Due stelle. Ma non c'è niente. Come fa ad avere già due stelle? Andiamo su Zamazor. Tutto quello di cui hai bisogno. Un condizionatore? No. Arcade machine? Vai! Fighissimo! Voglio partire facendo la sala giochi arcade. Cyber Territory 2077. È mio. Daglia l'audio. Perché mi deve spaccare le orecchie il suono? Tutto il resto è bassissimo e poi... Ma l'ho già comprato o me l'ho messo nel carrello? Mi sa che l'ho già comprato, sì? Voglio solo il meglio. Partiamo alla grande. Ah, questo qui. Vort 79 57. Ah, c'è anche una descrizione. Il gioco dove le persone possono trovare l'amore. Ok. Partiamo da questi che già abbiamo speso metà del capitale iniziale. E poi... Salve. Realistic Game... Ma cos'è? Lo spam? Oh no! Un virus! No! Mi ha noccherato! Così funziona? Eh, vabbè. Aspettiamo. Tanto che cazzo ci andava a rubare... Merda, non mi rubano i soldi, vero? Mi è piaciuta questa specifica. Price list. Ai. No, scusami. Lasciamo così. 100 dollari un token. Non so che cazzo sia un token. Non so cosa ti dà l'opportunità di fare. Icistore? No, 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 no. Non compro niente, grazie. Che esperienza incredibile. No! Ma porca miseria. Jennifer, 24 anni. No, Jennifer, non mi interessa chattare su MSN. Ma non ce l'ho un antivirus, scusami. Come si fa? Grattevinci? Attenzione. Via 100 dollari, subito. Aha, 500. Quanti ne devo trovare? 50? 100? 500, attenzione. Forse se trovo il trezzo 500 è fatta. Oh, yes! Bello il gioco d'azzardo. È facile e accessibile. Wallpaper, posso cambiare? Ah, no, qui c'è la gente bruciata, l'orso. Bello portal che va in bagno. Dai, mettiamo la mucca e il pollo che hanno fatto l'uovo. Bellissimo. E qua c'è la criptovaluta che posso comprare. Ci sono i bitcoin, i litecoin, i dogecoin. Non so se esistano tutti. Probabilmente. Ma basta! Non ho vinto niente, non ho vinto. Ah, qui puoi controllare tutti i tuoi computer, ma noi non abbiamo computer per adesso. Qui invece si pagano le bollette. Aspetta, se io zoomassi che si vede anche meglio. Ma è tutto col blur altissimo. Sono le 8 di sera, di già? Andiamo a vedere un attimino se mi hanno consegnato le arcade. Ma porca puttana ste porte. Ah, eccoli qua. Prendo la scatola, ma ovviamente una per volta, giustamente. E la piazzo qui. Oh, sì! Sottobraccio, giustamente. Poggiarlo o lanciarlo? Lo poggerei con calma. Sottobre se ci entro dentro, riesco a gestire meglio la cosa. Putta. Che è successo? Eh no. Eh no. Cazzo. No. Ma è partito! Guarda là che sta trovando l'amore. Puttalo. Ok, puttato. Come non sta trovando l'amore? Chi è? Cosa fai? Guarda che si vede che sei un olosco. Adesso gli do una mazzolata, porca troia, sto stronzo. Vieni qui, vieni qui. Coglione di merda! Eh? Cosa fai? Ti aggiri per il mio quartiere? Ti spacco la faccia, eh? Ah. E prendiamo anche quest'altro. Eeeh... Sì. Tutto originale. E lo mettiamo di fianco a quell'altro. Che casino. Vai, proviamo ad aprire il negozio? Open cafe. Quindi io adesso sto qui a contare i soldi. Vabbè, già che ci siamo, vediamo se abbiamo qualcosa di particolare. Il computer case. Ma porca vacca là. Ma non è solo il case, è tutto il computer. Puoi giocare tutti i giochi. Ma mi servirà anche il monitor. I tavoli. Eh, i tavoli sono importanti. Un poster sicuramente ravviverà l'ambiente. Con una bella pin-up. Ecco, prendiamo anche un tavolo. Figa, 2000 dollari un tavolo? Ma quello lì è una cassetta! Com'è possibile che costa di più? Chi più spende, meglio spande. Poi monitor. Monitor risparmiamo un po'. Mouse. Una tastiera. Un headset con le orecchie da gattino. E il PC più figo che abbiate mai visto. La sedia, servebbe anche la sedia, effettivamente. Questa, perché non ci abbiamo tanti soldi. E il PC. A posto, abbiamo speso tutti i nostri soldi il nostro primo giorno. Perché alle 11 di sera nessuno entra? Forse bisogna fare promozione. O forse veramente bisogna lasciare la porta aperta. Venghi, oh signori, venghino! Ma ancora in lato? Ma io gli spacco la faccia, eh. Coglione! Questa gente di merda. Vuole giocare ai videogiochi? Ah, è un poliziotto. Vuole giocare ai videogiochi, poliziotto. Guardi, ho due bellissimi cabinati della sua app. Cazzo, qua c'è anche un rigattiere. Pipon. Che quartiere particolare? Vabbè. Portiamo dentro tutte le cose. Io qui farei la saletta col tavolo. Salve, poliziotto. Vuole... No. Black design table. Eccolo qua. Piazziamo qui. Che succede? Perché? Che succede, mio Dio? Oh! Adesso ci piazziamo tutto. Carino! Che c'è anche l'impostazione per metterci le cose. Sì, io prendo l'headset e glielo posso piazzare. Come non c'è? Perché non c'è l'headset? Vabbè, io lo metto lì. Anco! Ma guarda te! Stai fermo, sai! Imbecille! È il day one e mi stanno già cercando di derubare tutto. La devo piazzare qui? No! Porca puttana! Eh, ho visto che c'è la sedia. Che succede? Che succede? Tutto rotto! Certo che è difficile gestire un internet caffè, eh. Poster con la pin-up. Dammelo. Posso piazzarlo anche fuori? Eh, questo attirerà molta nuova clientela. Il mouse della phaser. Piazzalo lì. Ma quanto è grosso, poi? Oh, là. Allora. Ci sta. Perfetto. No. Fottuta sedia di plastica. Posso metterlo dritto. PC. Posso metterlo anche sotto? Non me lo fa piazzare. Qui non me lo considera neanche per scherzo. Vabbè, allora lo piazziamo qui. E la tastiera di ultima generazione. A posto. Qui si può videogiocare. È un barbone. Ciao. Ti sei drogato per caso? C'hai gli occhi bianchi? Ma io come faccio a guadagnare dei soldi? Cos'è un bagno questo? Ma che cazzo di posto è? Cosa mi è venuto in mente di aprire la mia cattività? Attività cattica. Che ora è? Le 4 del mattino. Forse è il caso di chiudere, eh? Dai, chiudiamo la porta. Prima che passi qualche ladro. Indian Restaurant Yoshi? Serata Tango! Non si bala così il tango. L'indomani mattina saremo più pronti. Qual è la nostra stanza? C'entrava un 3. 233. Dovrebbe essere questa, sì. Ok. Dormo. Ah. Dormi fino al mattino. Beh, puttana che paura. Sì, sono sveglio. Sono sveglio, gioco salvato, perfetto. Andiamo in frigo a mangiarci qualcosa che non si rifila da solo. Ok, una ciambella andrà bene. Piano, 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 ste po... Porca puttana. E andiamo al lavoro... No. Andiamo al lavoro. È una nuova mattina per i gamer. Ma perché è sporco di nuovo? Che cosa c'è stato qua? Cioè, la gente entra di notte? Mi crea sporcizia mentre non ci sono? Beh, non hanno rubato niente almeno. Non abbiamo avuto clienti, siamo in perdita. Ci entrano i drogati di notte, si vede. Guarda qua, sigarette. Apriamo. Mi deve sfuggire qualcosa perché io ho aperto... Ma non sta arrivando nessuno. Ho delle email? No. Messaggi. Nessuno mi scrive. Uh, una bella lasagna. Salve signora, mi dica. È venuta per divertir... Ulla. Il cartello fuori deve essere stato frainteso, ma mi fa piacere. Eh, per carità. Si divertono? Non so cosa si divertono a fare, però... Oh, drogato! Fuori dalle palle, sai? Scemo! Mi scusi, signora. È sparito. Non si preoccupi. Ok, stiamo guadagnando dei soldi. No, grazie. Mi servirebbe qualcos'altro oltre ai giochi. Ah, no, i giochi! Cazzo, noi abbiamo il PC ma non abbiamo i giochi. GTU 6! Fantastico! È mio! Half-Life 3? Anche quello non è male. Preso. Li devo installare? Ecco, vedi? Nuova clientela. Grandi! Minecrafter 2. Bellissimo. Aspetta un attimo che quasi quasi compro un altro cabinato. Che paura. Mio Dio, l'audio. Basta! No, no. Guadagniamo qualcosina di più. Poi decidiamo. Anche se effettivamente un altro cabinato è la cosa più pratica. Dai, compro questo. Ok. Costa poco, vale poco, ma almeno... Fica, sto perdendo tutti i soldi. Dai, dai, non è un problema. Nostro business sta partendo. Ma poi una volta che loro hanno giocato cosa devo fare? Io niente. Oh, signora, si diverte? Ma è Fortnite quello. Io non ho comprato Fortnite. Vabbè, è gratis, giustamente. Con la mano glitchata... Ma non vuole provare l'headset? No, si vede di no. Vabbè, chi è? È tornata. Si vede che le piace giocare a quel gioco. L'altro cabinato è arrivato? Sì. Signora, guardi qua. È arrivato fresco, fresco. Glielo putto, eh. Non in quel senso, eh. Ma è The Sims. Prego, prego. Venghino, venghino. Posso aumentare magari pre... No, mi sembra un po' presto per alzare i pre... Compute tutorial. No, non mi serve, grazie. Ah, devo pagare delle bollette. 120... Ma non voglio... Dai, che devo pagare le tasse qui. Una e una due. Quanto è? 134. Vabbè, ce la caviamo con poco. Perché? Perché ho pagato le bollette? Governo ladro. Salve, signora. Ma basta. Ma figa, quanto spam. Messaggi? Chi mi scrive? Puoi mandarmi uno dog? Come, scusami? Ah, dai. Ci sta aumentando il rating. Oh! Il ladro gli spacco la faccia. Mamma mia, se devo rompere tutte le ossa che c'è in corpo. Vieni qui, figlio di puttana. Oh! Imbecille! Stavano dicendo? Ah sì, mi chiedevano uno dog. Ma io non posso darglielo uno dog. Water, fresh water. Ma non ne ho. Provo a andare a comprare io. Perché c'era un negozio qui fuori. Ahà. Salve. Ha dell'acqua? No, della pizza. Della pizza. Perché ha della pizza? Lei che... Ma lei che cazzo vende? Cos'è qui in mezzo alla strada? Una pizza usata del... Ma questa qui è un Xbox One. C'è dell'acqua? Qualcuno vende dell'acqua? Cos'è questo? Lo Chanteclerc? No. Mi serve un worker. Uno chef. 7,99? Rento lo chef. Però non abbiamo la cucina ancora. Come si sblocca? Deve rentare la chicken. Eh, ma io non so come si renta la chicken. Ma basta, donnine. Ipad finti. Ah, chicken. Bye. Ok. Ci siamo. Avevo letto male prima, si vede. Ci siamo. A posto? Uh, lo chefone. E come funziona qui? Cioè, uno arriva, chiede... Come lo tiene strano il cappello? Che uomo mascolino. Complimenti. No, lei deve andare cortesemente. Se ne può andare? Con lo chef. Ah, ordini. Ecco qua. Ah, bello. Ok, aspetta. Ho ricevuto un messaggio. Non è vero. È sempre una recensione nuova. Perché io volendo posso ordinare dell'acqua? Ah, no. Dalla cucina lo posso fare. Dalla cucina posso... Della carne. Compra l'acqua. Sì. Ah, e questi qui immagino siano gli ordini. Ah. Ma arriva a me così? Scusami, non ho capito. Ho comprato dell'acqua e l'ho ordinata. Ah, eccola qui. E la posso dare... A chi... A chi la desidera. Vuole dell'acqua? Gliela metto qui. No. La metto qui. Per il gamer. Così si possono idratare. Abbiamo clientele di ogni tipo. Guarda qua. Dal businessman al metal meccanico. Che? Cos'è? Non ha pagato? Ma io gli spacco la faccia. Oh, imbecille. Ah, ecco. Non sapevo se potesse fare, ma è bellissimo. È triste? Perché è triste, signora? Che volevo fare? Ah, sì. Comprarmi una nuova postazione da gaming da mettere vicino a quell'altra. Ma basta! Che palle! È probabilmente uno dei più bei giochi che abbia giocato, comunque. È fantastico. Non so cosa dire. Mi sta piacendo tanto. Il condizionatore. Quasi quasi vado di condizionatore perché mi sa che tra un po' la temperatura sale. Guarda questi qui che arrivano a sbafo. I miei soldi, imbecille! C'è della gente che se ne va scontenta, ma non ho capito perché. Cisled. L'aria condizionata. Non ho preso il tavolo. Allora, l'aria condizionata la attacco al muro. La mette come vuole lui. Tiè. Allora, la metto qui la tastiera. Mi sta messaggianto. Ah, un messaggio. Che mi dice? Eh, merda, me lo son messo. Me lo son... Eh, me? Me lo son perso. Ah, ok. Ho un messaggio, messaggio, messaggio. Aspetta che magari qualcosa che ci ficca. Vai! Eh, quanto ci vuole. Ok. Che ne va, Cook? Eh, non più. Sei andato via. Figa, ma devo stare al computer a sniperare tutto? È impossibile sta cosa. Paghiamo le tasse. Quant'è? 852? Non ce le abbiamo? Le paghiamo domani. Ho comprato un tavolo di quarzo, effettivamente. Non so quanto sia stata una bella idea. Condizionatore si può accendere e spegnere? Per risparmiare? Vediamo. Hot. Warm. Come funziona? Ah, questo qui immagino non sia il vero telecomando. Semplicemente mi dice la temperatura nelle varie stanze. Qui è warm. Ah, e qui è hot. Vabbè, Tony, ci vediamo domani, eh. Andiamo di qui. Uh. Chissà che tipo di mestiere fa questo uomo. Se non siete bambini grandi vi consiglio di non guardare d'ora in poi, perché la situazione può diventare bollente. Uh. Ciao, baby. Ciao, baby2. Vabbè, che volete da me? Arrivederci. Posso bere un cicchetto? Di chi è questo? Non è di nessuno? Uno show speciale per 100 dollari. Mi ficca lei che sembra una bambola con la mutanda glitchata. Stripper. Vai. Special show. Bella la vita da possessori di internet caffè. Eh. Ma che stanza grande. Che faccio? Mi siedo? Ma con le porte aperte? E se io non volessi guardare? Che belle scarpe che ha. Eh, mi sono rotto il cazzo. Ciao, eh. 100 dollari peggio spesi. Chiuditi dentro. Addio. Posso andare a fare la pipì? No, non si può fare. Non so se voglio entrare in un bagno di uno step club. Ma l'audio? Che succede all'audio? Posso ballare io? Per soldi? No. Cazzo, come è insonorizzato questo locale. Dove sta andando lei? Ah, ecco. Padre di famiglia così. Andiamo che domani è un altro giorno. Questo è il quartiere malfamato dove abbiamo il negozio. E questo è il quartiere ancora più malfamato. Col sexy shop. Il Kunnanwabridal. Sono sicuro di aver detto una cosa terribile in una lingua che non conosco. C'è la grande mela di qua. Ulala. Ma guarda qui. Una laterale della via di prima. Ma quindi se io volessi lasciare la città non potrei? Sono circondato da mura. Domani è un altro giorno. Una colazione al volo. Ho finito il cibo. Io ho sempre questa porta che non si apre. Voglio sapere che cazzo è. Pronti per una nuova giornata. Ciao bello. Posso comprare del pane? Grazie. Me la trovo direttamente in casa poi sta roba. Ma che pane? Ma perché tutte le mattine è sporco per terra? Sei stato tu, eh? Di la verità, Tony. E apriamo il nostro internet caffè. Internet più o meno. Caffè più o meno uguale. Oggi la polizia viene a fare un'ispezione. Ho un bel po' di tasse da pagare. Dai. Speriamo che i clienti paghino. Mi serve sicuramente dell'altra aria condizionata però. O almeno un ventilatore o qualcosa. Ma perché un ventilatore da mille dollari? Che cazzo fa? Mai compro questo da 720. Ma se io spengo questa luce risparmio? Ah, lo devo mettere sulla scrivania? Giustamente. Puntato sul giocatore. Fighissimo. C'è un ventilatore. Ma è inutile. Perché è veramente caldo. Il ventilatore è caldo? Non ho capito. Serve un condizionatore. Cazzo, ma è un problema. Dai. Dai, che mi stanno scrivendo. Guardate i messaggi. Non clicco. Non clicco. Fermo lì con le dita. A hot dog. Sì, subito. Allora. Dov'è? 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 Sousages. Hot dog breed. Oddio mio. Allora, compra questo. Compra questo. Ma gli devo fare io tutto... Hot dog, ho ordinato. Eccolo qui. Ma non mi paga. Ma le tiro le mazzolate. Permesso, permesso. Scusate, eh. Stronza di merda. Ah sì, l'ordine dell'hot dog. Ma glielo devo portare io? Glielo porto. Carissimo. Eccolo qua. Come faccio? No, no. Tieni, tieni. Tieni l'hot dog. Tieni. Ma è andato via. Ma porca puttana. E adesso? E non ha nemmeno pagato. Ma porca troia. Vecchio militare, t'ammazzo. Imbecille. Signor Popone, buonasera. Ho un altro messaggio, aspetta. Una cioccolata, arriva. Cioccolata, ordinata. Perfetto, arriva. Eccola cioccolata. Pagale tu. Un, due, tre, quattro. Figa quanti soldi che vanno via in tasse. Fa un po' più fresco adesso. Però io non posso abbassare il condizionatore. Devo comprarne un altro. Perché? Poi per forza le bollette si impennano. Rendiamo operativi. Piano. Così rendiamo operativo anche questo. Computers. Cazzo, manca il computer. Salve, signor Poliziotto. Mi dica tutto. Controlla? Controlli, controlli. Non c'è niente fuori posto. Uno dog. Arriva, amico mio. Arriva uno dog. Fammi. No, non serviva, cazzo. Ce ne avevamo già uno pronto. E provo a dargli quello lì per terra. Eccolo qui. Dai, raccoglilo. Ah, ok. Diabolo, quattro in anteprima? Aspetta, che chiudo qua lo spam. E compro Diablo 4. E bug royal. Porca troia. Lacker protection per tre giorni. Buy fake review for your business. Io non capisco sto ladro perché tutti i giorni arrivi qui. Oh, ho svegliato strada. Eh, oh, mi capita anche. Sono stanco, sono stanco dopo una dura giornata di lavoro. Ma lascio anche la porta di casa accesa. Tanto che cazzo mi rubano. Ho detto porta di casa accesa o porta di casa aperta? Mi sa che ho detto accesa. Puoi divertiti con i tuoi amici? Ma non ho amici. Ci sta? Oh, vuole un hamburger quello lì. Tony, fammi un hamburger. Cazzo, cazzo, cazzo. Tony, un hamburger adesso. Dai che perdiamo il cliente. Permesso, signorine? Eccolo. Per 30 dollari tutta sta corsa, cazzo. Ah, posso anche controllare quanto stanno utilizzando i computer e quali? Ma il cartone della pizza dietro ai cabinati. Mi prendo anche un nuovo co-worker. Un altro bodyguard. Come? Ma mica è colpa mia se la gente si guarda i pornazzi? Scusami. Si può impedirlo? Coltelli di Counter-Strike. Vai. Ma perché poi dopo li posso rivendere? Ma Mastro Lindo? Buongiorno. Che clienti di alto profilo. Ah, si lamentano perché fa freddo. Come faccio ad impedire il fatto che faccia freddo? Porto via questo e lo metto di qua. Questo è lo stronzo che prima non voleva pagare. Ti spacco la faccia, sai. Giocare a FIFA con le mani. Che poi posso pagare uno che fa da mangiare. Uno che fa il bodyguards. Non posso pagare uno che pulisce per terra, scusa. Un cameriere per portare il cibo. Guarda, sempre lì finisce la pizza, scusami. E niente, semplicemente quando hai fame non arrivano clienti. Ciao, Tony, che fai? Ti stai tagliando il cazzo, Tony. No, non lo fare. E allora non parliamo mai. Ma sì, ma non pago le bollette, non faccio niente. Me ne frego, me ne frego. Dr. House, vuole una mano? Niente, volevo dare una conclusione particolare a questo video, ma... Non si può. Il gioco è bello, anche se io sono immortale e la fame, quindi serve solo a dar fastidio. Cazzo, è bello. È divertente. In accesso anticipato, secondo me, se aggiustano qualcosina diventa veramente bellino. Ciao. Mannaggia a tutti. Ah. Vabbè. Dov'è la mia mazza? La... E la donna? Ma non ho fregato. È bello. No, ma...